Io ho l'onore stasera di presentarvi un grande della musica etnica del Sud, colui che ha fatto nascere questi ritmi così dironventi nella musica italiana, lui faceva parte di gruppi storici insieme ad altri musicisti partenopei, io mi riferisco a Musica Nova, insieme a Eugenio Bernate, insieme a Carlo D'Angio e a tanti altri, però sicuramente avete capito a chi mi riferisco e questa sera è qui insieme a noi, con noi, per voi, Toni Esposito, insieme alla compagna, il maestro Antonio Nicola Bruno. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie. 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 Allora io questa sera ringrazio Sandro e tutto il suo fantastico gruppo. Ho con me Antonio Bruno vecchio compagno di viaggio perché con me da tanti anni Antonio ha fatto parte di un gruppo storico di tarantolati di Tricarico. Antonio viene da potenza Tricarico. Questa sera un po' si sancisce un po' un incontro che già è avvenuto negli anni tra quelli che sono i due sud per me importantissimi. Quella che è la Campania e la Calabria. Io già trent'anni fa con Eugenio Pennato venivamo in terra di Calabria ad imparare i vostri ritmi. Questa sera io sono già stato qui parecchi anni fa. Sono stato qua all'inizio di Calimba dei Luna negli anni Ottanta. Per cui vi ringrazio per avermi di nuovo invitato. Questa sera sono ospite di questo grande artista con un lavoro bravissimo. E che la musica del sud sia sempre più forte e soprattutto sia sempre esportabile.